buongiorno io sono alice la cuoca della scuola primaria biffi oggi sono qui per raccontarvi come cucinerò la pasta a ragù di verdure per la pasta a ragù di verdure utilizzeremo delle verdure fresche biologiche sedano carota e cipolla tagliate grossolanamente le faremo soffriggere con dell'olio extravergine di oliva utilizzeremo della polpa biologica pasta biologica e per terminare il nostro piatto aggiungeremo del parmigiano reggiano iniziamo a fettare le le nostre verdure grossolanamente adesso inizieremo a soffriggere le nostre verdure tagliate a cubetti quindi aggiungiamo le nostre verdure cipolla carota e sedano biologici olio biologico extravergine d'oliva facciamo il nostro soffritto aggiungiamo la nostra polpa biologica mischiamo bene lasciamo cuocere almeno due ore questo è un modo diverso innovativo per far mangiare le verdure ai bambini senza fargliele scoprire perché sono un po coperte dal sugo e nascoste attendiamo la cottura saliamo in quantità adeguate senza esagerare e non ci resta che aspettare la cottura della nostra pasta che butteremo dal momento in cui l'acqua bolle ed ecco la nostra pasta al ragù di verdure ora non ci resta che assaggiarlo buon appetito